Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questa lezione del corso di programmazione ad oggetti. In questa lezione parleremo di caratteristiche aggiuntive del linguaggio Java, in particolare di alcune caratteristiche che possiamo ancora dire di base del linguaggio che sono utili per andare a capire come usare alcuni aspetti particolari. Ok, iniziamo a parlare da quelle che sono le classi annidate. Allora, in Java è possibile andare a dichiarare una classe, normalmente all'interno di un file che ha esattamente lo stesso nome della classe, con l'estensione .java, ma oltre a questo è possibile andare a definire delle classi che sono annidate dentro altre classi, ovvero dentro la coppia di graffe che definisce il corpo o la definizione della classe. Le classi annidate sono sostanzialmente equivalenti agli altri membri della classe, ovvero metodi e attributi. E quindi gli attributi, ma soprattutto i metodi di queste classi annidate, hanno le stesse visibilità dei metodi della classe stessa. Quindi, sostanzialmente, un metodo di una classe annidata ha visibilità su tutti i metodi e attributi della classe che la contiene, quella più esterna. In Java ci sono diverse tipologie di classi annidate. Ci sono le classi annidate semplici, cosiddette statiche, perché hanno un modificatore static. Le classi interne, che sono sostanzialmente analoghe alle precedenti, però mantengono un collegamento all'oggetto della classe esterna che li ha creati. Abbiamo le classi locali, che quindi sono definite non soltanto dentro una classe, ma bensì dentro il corpo di un metodo. E poi abbiamo le classi anonime, che sono sostanzialmente delle classi locali, ma che sono prive di nome. Vedremo in questo momento le prime tre tipologie, mentre invece quest'ultima tipologia, sostanzialmente, quest'ultima tipologia la lasceremo per dopo, perché richiede l'utilizzo di un altro aspetto importante, che è l'ereditarietà, di cui parleremo prossimamente. Iniziamo da quelle che sono le classi statiche, annidate, quelle più semplici. Allora, la dichiarazione è quella che vedete qua, quindi io dentro una classe esterna vado a dichiarare una classe annidata con il modificatore static. Io qui non ho messo nessun modificatore di visibilità, quindi non ho messo né private né public, quindi vuol dire che questa classe annidata sostanzialmente ha una visibilità di package, ovvero sarà visibile da tutte le altre classi che stanno nello stesso package di outer, che in questo caso è pkg. Quando devo fare riferimento a una classe annidata, normalmente uso una notazione che è analoga a quella dei package, in cui aggiungo il nome della classe esterna che contiene la classe annidata. Quindi il nome completo di questa classe nested è pkg, che è il nome del package, outer, che è il nome della classe contenitore, e in o nested, nello caso specifico. Come possiamo utilizzare queste classi e perché le utilizziamo? Sostanzialmente il motivo principale per andare a utilizzare delle classi annidate, di questo tipo ma anche degli altri, è sostanzialmente ridurre quello che è l'inquinamento di nome. Se io definisco tutte allo stesso livello, all'interno di un package, tante classi, mi ritrovo a che fare con tanti nomi. Poi è probabile che alcune di queste classi abbiano un uso molto limitato e ristretto, ad esempio esclusivamente all'interno di un'altra classe. In questo caso, che cosa faccio? Andando a definire una classe annidata, riduco quella che è lo spazio di nomi, tutto l'insieme di nomi che io posso vedere, e quindi sostanzialmente mi sembra... Inoltre, quello che è una conseguenza è che posso andare in questo modo, inquinando lo spazio di nomi globali, a nascondere quelli che sono dettagli implementativi. Perché? Perché sostanzialmente la classe annidata sta all'interno della classe contenitore. Vediamo un esempio. Abbiamo una classe stack of int, che è uno stack di interi. Lo stack che cos'è? È una struttura dati standard, in cui sostanzialmente gli elementi vengono messi uno sopra l'altro. Quindi impilo gli oggetti o i dati che voglio andare a mettere, e poi per accedere a questi oggetti posso sostanzialmente andare a lavorare dall'alto. Quindi l'ultimo elemento che ho inserito è il primo che vado a prendere. Quindi immaginate una pila di quello che volete, metto tutti gli elementi, per prendere un certo elemento, cosa faccio? Devo togliere tutti quelli prima. Quindi l'accesso è sostanzialmente da quello che si chiama la cima dello stack o il top. Quindi questa classe stack o vinte rappresenta uno stack con due operazioni che sono push e pop. Push mette l'elemento sullo stack, pop lo toglie. Ovviamente devo andare a gestire una serie di elementi. Come faccio? Gli elementi che compongono il mio stack sono rappresentati da questa classe che si chiama element. Vedete che io l'ho dichiarata di tipo private, quindi è visibile esclusivamente all'interno di questa classe stack o vinte. Quindi questo è un tipico dettaglio implementativo che nessuno all'esterno della classe stack o vinte vedrà. Questo vuole anche dire che io posso tranquillamente utilizzare il nome element in tanti altri contesti senza andare in conflitto con questo nome element che è definito qui dentro. Come è fatta questa classe? Sostanzialmente contiene un attributo valore e un altro attributo next che è sostanzialmente il prossimo elemento, quindi quello successivo che è stato inserito precedentemente. La classe sostanzialmente ha un attributo head che fa riferimento a un elemento che è il primo elemento del mio stack. Questo punta al primo elemento, il primo elemento tramite il suo attributo next punterà a quello successivo e via di questo passo. Quindi io tramite head riesco ad accedere alla cima del mio stack e tramite l'attributo next dell'elemento che sta in cima posso accedere a quello successivo e via di questo passo. Quindi le operazioni di push e di pop possono essere svolte facilmente. A questo punto, data questa struttura generale, un invito a chi segue questa lezione come esercizio provate a scrivere il contenuto di questa classe, in particolare dei due metodi push e pop, in modo che facciano queste operazioni. Passiamo ora al secondo tipo di classe annidata. Sono quelle che vengono chiamate delle classi interne. Una classe interna sostanzialmente è una classe dichiarata esattamente come la classe annidata, ma con la differenza che non c'è il modificatore static qui davanti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando la classe outer crea un oggetto della classe inner, automaticamente questo nuovo oggetto mantiene un link, quindi un legame, con l'oggetto esterno che l'ha creata. Questo vuol dire ovviamente che una classe interna di questo tipo può essere creata esclusivamente da un oggetto, quindi da uno dei metodi della classe outer, in modo che l'oggetto della classe interna possa avere il link al suo contenitore esterno. Vediamo ora un esempio di come possiamo andare a sfruttare questo tipo di classe. Iniziamo da questo che è un semplice contatore, che ha un attributo interno v, un metodo di incremento, a cui passo la quantità di cui incrementare il valore, e un metodo getter che sostanzialmente mi restituisce il valore. Immaginiamo di voler sostituire questo semplice metodo con degli oggetti che nascondono al loro interno il passo di cui incrementare quella variabile, e poi sfruttare questi oggetti per andare a fare gli incrementi. Quindi quel metodo verrebbe sostituito da una classe interna esattamente fatta in questo modo, per cui in questa classe, che vedete non ha static, quindi è interna, abbiamo un attributo interno by, che è per appunto il passo di cui incrementare, un metodo do increment, che è quello che sostanzialmente incrementa la variabile v, e un costruttore a cui passo l'incremento da inizializzare. A questo punto, qui ho definito anche un metodo che si chiama build incrementer, che, dato un parametro, costruisce un oggetto di tipo incrementatore con un certo passo. A questo punto, che cosa faccio? Sfrutto il fatto che questa classe mantenga, quando viene costruita, un riferimento all'oggetto che l'ha creata, per cui posso andare a utilizzare il contatore e gli incrementatori, ad esempio in questo modo. Creo un contatore, creo due incrementatori, con passo 1 e passo 4, e poi vado a chiamare i singoli incrementatori usando il metodo do increment. Il primo incrementerà di 1, l'altro incrementerà di 4, quindi sostanzialmente mi ritroverò con un incremento totale di 5. Come funziona il meccanismo della classe interna? Beh, sostanzialmente possiamo immaginare che il compilatore la traduca in questo modo, quindi sostanzialmente vada ad aggiungere un attributo interno outer, che punta all'oggetto della classe contenitore. Questo attributo viene sostanzialmente inizializzato quando viene creato l'oggetto, quindi è come se fosse passato, come è scritto qua, come un parametro del costruttore, e oltre a inizializzare gli attributi interni, inizializza questo riferimento. A questo punto poi ha la possibilità di utilizzare outer per accedere agli attributi dell'oggetto più esterno. A questo punto, quando noi andiamo a creare i due oggetti incrementatori dentro questo metodo build increment, sostanzialmente questi manterranno un legame con l'oggetto contenitore che li ha creati. Quindi è molto comodo quando io ho degli oggetti che sono strettamente legati al loro contenitore, quindi sono come fossero contenuti, che questi mantengano un riferimento al loro contenitore in modo da poter operare in maniera privilegiata con gli oggetti di questa classe. Terza tipologia di classi interne sono quelle che sono dichiarate all'interno di un metodo. Quindi io in Java posso andare a dichiarare una classe X direttamente dentro un metodo. Per cui, ad esempio, qui per definire una classe X, che è un metodo plus, che restituisce J più I. Vi faccio notare che il motivo per cui io definisco una classe all'interno di un metodo è che posso andare a fare riferimento a variabili locali di questo metodo. Per cui posso creare un oggetto X di classe X e poi chiamare X.plus. Questo che cosa fa? Sostanzialmente mi restituisce il valore di J incrementato di 1. Come funziona questo meccanismo? Funziona sostanzialmente con una specie di sostituzione. Quindi il valore di J nel momento in cui dichiaro la classe X è in questo caso 1 e quindi sostanzialmente nella classe che viene creata a J viene sostituito 1. A questo punto quando creo la mia classe il mio oggetto X questo andrà a sommare 1 che è il valore di J quando è stata dichiarata la classe a 1. in generale tutto l'insieme di variabili locali che sono utilizzate dalle classi interne vengono chiamate sostanzialmente closure quindi la closure è l'insieme di tutte le variabili locali che sono utilizzate o referenziate da una classe interna locale. Questa classe oltre a essere una classe locale quindi dichiarata dentro un metodo è una classe interna e quindi mantiene esattamente come le classi interne che abbiamo appena visto un riferimento preferenziale all'oggetto che l'ha creata. Ovviamente l'oggetto che l'ha creata è l'oggetto su cui è stato chiamato questo metodo M. Ora questo meccanismo di sostituzione per cui cambio il valore con il valore attuale della variabile locale potrebbe essere messo in crisi se noi dopo aver dichiarato la classe andassimo ad esempio a incrementare la variabile J. A questo punto qui che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo il valore di J che venga utilizzato il valore di J quando ho dichiarato la classe quindi sostanzialmente 1 oppure il valore di J dopo che io ho fatto l'incremento sostanzialmente qui c'è un po' di ambiguità per cui Java sostanzialmente impedisce di fare queste operazioni quindi sostanzialmente questa operazione non può essere fatta perché tutte le variabili che fanno parte della closure devono essere sostanzialmente final se io non dichiaro final esplicitamente in questo modo quindi non dico che quella variabile comunque non può cambiare valore in ogni caso il compilatore la considera come final e quindi se cerco di accedere a una variabile modificandola il compilatore sostanzialmente mi segnala un errore l'ultimo tipo di classi che avevo menzionato prima è sostanzialmente quello delle variabili interne anonime che sono sostanzialmente delle variabili interne locali che però non hanno un nome come faccio a non dare un nome a una classe beh questo è un po' complicato richiede l'uso dell'ereditarietà quindi dopo che avremo parlato e introdotto il tema dell'ereditarietà vedremo anche nel dettaglio come funzionano le classi interne anonne a questo punto vorrei invece passare a uno degli altri argomenti aggiuntivi che riguarda la gestione della memoria sostanzialmente in java io ho tre tipologie di memorie la memoria statica in cui vengono messi tutti gli elementi statici dichiarati dalle classi quindi le variabili statiche ad esempio ma anche le definizioni delle classi quindi esiste una memoria in cui il codice delle classi viene messo e questa è una memoria statica c'è poi una memoria dinamica che è quella in cui vengono creati gli oggetti quando io faccio un'operazione di new vado a utilizzare quella memoria e infine c'è lo stack in cui vengono memorizzate le variabili locali dei metodi ogni volta che vado a allocare una nuova variabile locale sostanzialmente aggiungo in cima allo stack un blocchetto di memoria che è in grado di mantenere tutte le variabili locali di quel metodo quando il metodo finisce sostanzialmente viene fatto un pop di quella area di memoria e sostanzialmente mi ritrovo in cima alla memoria le variabili locali della funzione del metodo chiamante quindi in generale io posso andare a distinguere la mia memoria in statica locale o memoria dello stack e dinamica o heap si chiama heap perché sfrutta una strategia che si chiama per la punto heap per la sua gestione ma questo è giusto un flash per chi sa che cos'è un heap e quindi chi ha visto l' heap in un corso ad esempio di algoritmi e programmazione in generale immaginiamo che questa sia una gestione che fa in modo di mettere dei blocchetti di memoria allocali ed eventualmente liberarli quando non sono più necessari quindi cosa succede immaginiamo di avere un programma molto semplice in cui ho una variabile statica ss e un main la variabile statica ss ovviamente andrà a finire dentro la memoria statica dichiarata così sostanzialmente viene inizializzata automaticamente quindi sostanzialmente è uguale inizialmente a null se entro dentro il mio metodo main e ho ad esempio una variabile locale s questa verrà messa dentro lo stack stack quando vado a creare un nuovo oggetto e lo faccio puntare dal riferimento s sostanzialmente quello che ottengo è di andare a creare la mia variabile il mio oggetto di tipo stringa dentro lo heap e andare a memorizzare dentro s che sta nello stack un riferimento all'oggetto che ho appena creato se poi faccio ad esempio ss uguale a s quello che ottengo è quello di andare a memorizzare dentro ss una copia del riferimento che c'è in s e quindi sostanzialmente ottengo due variabili una che sta nello stack quindi nella memoria locale una che sta nella parte statica di memoria che puntano agli oggetti quindi in generale in java nella memoria statica e nello stack ho semplicemente riferimenti oppure variabili tipo primitivo tipo int o double per cui in generale quando ho le variabili io variabili di distanza e quindi sono dei riferimenti che sono memorizzati all'interno degli oggetti quindi stanno dentro lo heap ho le variabili locali e ho le variabili statiche quindi questi sono i tre tipi di memoria che io ho a disposizione come viene gestita la memoria sostanzialmente abbiamo visto che possiamo fare una new ma non abbiamo un modo esplicito di andare a deallocare la nostra memoria per cui lo facciamo in maniera implicita utilizzando quel modulo della java virtual machine che si chiama garbage collector e che sostanzialmente periodicamente va a identificare gli oggetti morti ovvero a cui non è possibile accedere perché non c'è più nessun riferimento e li rilascia noi possiamo andare a suggerire alla nostra il nostro modulo di garbage collection di effettuare una passata di pulizia della memoria usando il metodo gc dell'oggetto system però attenzione che questo nelle specifiche della java della virtual machine è interpretato come un semplice suggerimento quindi non è garantito che la chiamata di gc effettivamente vada a liberare la memoria cosa succede se io devo andare a fare qualche operazione in fase di distruzione di un oggetto allora non lo posso fare esplicitamente perché giustamente non posso controllare il momento in cui non viene deallocato un oggetto ma se ho necessità di fare qualche operazione prima che la memoria di un oggetto venga rilasciata lo posso fare tramite il metodo finalize attenzione non esiste nessuna garanzia in java che il metodo finalize venga chiamato del tutto per cui ad esempio se abbiamo un oggetto una classe item che ha un metodo finalize che stampa finalizing e io vado a creare un nuovo oggetto di questo tipo e poi lo metto a null posso provare a chiamare il metodo garbagecollect ma non è detto che questo effettivamente vada a recuperare la memoria che era stata dedicata all'oggetto i e che quindi chiami finalize quello che invece è molto probabile è che se io non metto questa chiamata gc il programma terminando non faccia nessuna operazione di liberazione della memoria quindi il metodo finalize dell'oggetto item non verrà mai chiamato invece con questo gc è probabile che venga chiamato ma non è garantito a questo punto ancora un paio di dettagli sulla sintassi java che riguardano gli argomenti il numero di argomenti variabili questa è una caratteristica che era già presente in c vediamo com'è declinata in particolare nel linguaggio java quindi in generale io quando ho un metodo posso passare un numero variabile di parametri questo viene viene fatto andando a specificare il tipo del parametro mettendo poi puntini puntini e i parametri quindi sostanzialmente che cosa succede succede che quando io ho una dichiarazione di questo tipo il compilatore in pratica sostituisce a questa dichiarazione una dichiarazione di array quindi invece di avere un array di un certo di un tanti parametri di un certo tipo il compilatore quando io faccio la chiamata mi costruisce un array di elementi di questo tipo per cui ad esempio se io vado a definire una funzione che si chiama un metodo statico che si chiama min e riceve un numero variabile di parametri di tipo int che qui io chiamo values se io voglio utilizzare questo metodo per andare a calcolare il valore minimo come suggerisce anche il nome quello che posso fare è di andare utilizzare un ciclo for su values perché all'interno di questo metodo values è sostanzialmente rimpiazzato da un array ovviamente numero variabile di parametri vuol dire che io posso passare anche nessun parametro in questo caso l'array è un array di dimensione 0 con lunghezza 0 e quindi sostanzialmente questo ciclo non verrà mai eseguito altrimenti posso passare uno due n parametri e questi parametri saranno sostanzialmente messi dentro gli elementi di un array di tipo int quindi questa dichiarazione in java sostanzialmente viene rimpiazzata da un array e quindi se io chiamo min passandogli questi parametri automaticamente il compilatore crea un array che contiene 9 3 5 7 2 8 lo passa a min che poi a questo punto farà un ciclo su questi elementi e andrà a individuare qual è il minimo altro elemento che esiste già nella sintassi c ma che è trattato in maniera leggermente diversa in java sono i tipi enumerativi per cui io posso utilizzare enum per andare a definire un tipo enumerativo enum sostanzialmente segue una sintassi molto simile alla dichiarazione di una classe vedete che io qui avrei potuto scrivere class e la sintassi era molto simile la differenza è che dentro un enume io vado a elencare tutti i valori possibili di questo tipo enumerativo qual è il vantaggio di un tipo enumerativo è che sostanzialmente ho un controllo molto più specifico da parte del compilatore che è in grado di andare a verificare che variabili di tipo enumerativo ad esempio su its possano assumere soltanto questi quattro valori inoltre quando stampo il valore questo quando stampo il valore di una variabile di tipo enumerativo ho esattamente questa stringa sostanzialmente i tipi enumerativi equivalgono grosso modo a una classe in cui ho una serie di elementi statici hearts diamonds clubs and spades che vengono inizializzati con nuovi oggetti di questa classe tutti gli oggetti avranno una stringa che è la rappresentazione di quel valore e un valore intero che rappresenta quello quindi i tipi enumerativi esattamente come in C hanno un corrispondente valore intero che io ovviamente posso utilizzare ma hanno anche una stringa che è la loro rappresentazione per fare riferimento agli elementi di tipo enumerativo devo utilizzare il nome dell'enumerazione punto il nome di uno di questi valori quindi questo è l'unico modo in cui posso andare ad assegnare un valore di tipo enumerativo quindi quando dichiaro la variabile card questo potrà assumere soltanto uno di questi quattro valori che sono quelli elencati qua dentro direi che con questo abbiamo concluso la serie di lezioni che andavano a definire le caratteristiche di base del linguaggio Java tanto per riassumere Java abbiamo visto che ha una sintassi molto simile a quella del C anche queste ultime due caratteristiche il numero variabile di parametri e i tipi enumerativi sono analoghi a quanto c'è in C con qualche piccola variante c'è un nuovo tipo primitivo che è il tipo boolean per cui tutte le istruzioni di controllo sfruttano questo tipo gli oggetti quindi sono le istanze delle classi vengono manipolati tramite dei riferimenti quindi l'unico modo di accedere a un oggetto è tramite un suo riferimento che è un puntatore però nascosto e gestito in maniera molto più limitata rispetto a quanto sono i puntatori in C ricordatevi in generale che quando io definisco una variabile cui tipo è il nome di una classe quello è una dichiarazione di riferimento ma non corrisponde in generale alla creazione di un oggetto un oggetto deve essere creato separatamente utilizzando l'operatore new le classi e anche i package permettono di andare a definire dei contesti di visibilità e io ho una serie di modificatori private e public che permettono di andare a regolare quali elementi all'interno di una classe o all'interno di un package sono visibili al loro esterno questo mi permette sostanzialmente di avere una pulizia nell'architettura della mia applicazione che permette di avere una facile comprensione del mio codice e mi espone gli utenti di un package oppure di una classe a un insieme molto limitato di nomi e quindi semplifica la comprensione dei package e delle classi abbiamo visto anche gli array gli array a differenza di quanto avviene in java sono degli oggetti e quindi vengono sempre allocati nella memoria dinamica la loro dimensione viene definita nel momento in cui faccio un'operazione di new ricordiamoci che gli oggetti di un tipo che è una classe sostanzialmente sono array che contengono tanti riferimenti quindi la dichiarazione di un array ad esempio di string non crea delle stringhe ma crea semplicemente dei riferimenti a oggetti tipo string e quegli oggetti non ci sono quindi un array normalmente viene inizializzato con tutti i valori a null abbiamo visto poi che esistono le classi wrapper che permettono di andare a incapsulare i tipi primitivi e abbiamo visto che c'è una classe speciale che si chiama string che rappresenta le stringhe quindi gli array di caratteri in java non sono utilizzati per andare a rappresentare le stringhe ma le stringhe sono rappresentate da questa classe speciale che abbiamo visto ad esempio l'operatore più una serie di metodi che permettono di fare delle operazioni e condivide con le classi wrapper una caratteristica importante che è immutabile quindi una volta che io ho messo dentro una stringa un valore quello non cambia più se io voglio fare un'operazione di modifica devo andare a creare una nuova classe che contiene una variante della stringa di partenza quindi io quando opero sulle stringhe e faccio operazioni complicate queste sostanzialmente creano sempre nuove stringhe cosa succede a quelle vecchie vengono lasciate nello heap e prima o poi il garbage collector andrà a liberare la loro memoria quindi questa è una sintesi estremamente veloce di quelle che sono le caratteristiche principali del linguaggio Java a questo punto non ci resta che andare a vedere quelle che sono poi le caratteristiche un po' più avanzate quindi la prossima caratteristica del linguaggio Java che noi andremo a analizzare è quella che si chiama l'ereditarietà o inerritans che è una caratteristica molto potente che è comune a praticamente tutti i linguaggi orientati agli oggetti e che ci permette di dare un potere espressivo molto significativo grazie a tutti grazie a tutti